margherita e le castagne siamo nella valle del tavolo rotondo buongiorno margherita che cosa succede intorno a te stanno cadendo un po di foglie è autunno e il freddo sta arrivando qual è il frutto che mangiamo solo in autunno la castagna il cocomero la pesca la castagna benissimo allora andiamo a cercare nel bosco le castagne è molto divertente bisogna essere abili e ma dove stai andando non andrai senza di noi abbiamo bisogno di un cesto cerchiamolo in cucina eccolo ora possiamo partire sì l'ho vista dietro a quel broccolo una castagna e lì in alto un'altra ancora abbiamo già due castagne margherita non senti qualcosa beh forse ci stiamo sbagliando ma sembrano le lancette di un orologio di che cosa si tratterà ciao e tu chi sei sembri un timer abiti da queste parti benissimo allora puoi aiutarci stiamo cercando delle castagne margherita lo seguiamo grazie sono tantissime margherita mettiamone alcune nel cesto e torniamo in cucina andiamo adesso possiamo contarle una due tre quattro cinque e sei sei castagne margherita le cuciniamo saranno buonissime allora è facilissimo una piccola incisione e poi le mettiamo su una padella speciale quale fra queste secondo te è quella giusta si ha dei buchi esatto saranno pronte quando l'incisione si sarà allargata eccole ora sembrano cotte si chiamano caldarroste buonissime è stato molto divertente giocare con te grazie dell'aiuto ci vediamo la prossima puntata ciao